Sono Vittorio Santarpia, dottore agronomo della cooperativa del Golfo. La cooperativa si occupa della programmazione e produzione di fiori decisi per i mercati esteri. Il mio ruolo nella cooperativa è di assistere alla programmazione della produzione e alla gestione della difesa filo-sanitaria. I nostri prodotti principali sono Garofano, che resta una delle coltivazioni prevalenti, Diantus Standard, Diantus Barbatus, Ranuncolo, Anemone, Calendula e tutta una serie di prodotti accessori. In sostanza negli ultimi due anni abbiamo avuto molti più problemi per il controllo degli insetti. In particolare sul Ranuncolo abbiamo avuto diversi problemi per il controllo del tripide. Questo ci ha causato non pochi problemi per la gestione dei virus conseguenti, in particolare del tomato spot e anche del cucumber mosaic virus. Invece su Garofano e Crisantemo abbiamo avuto diverse problematiche legate al controllo della bega. Sono venuto a conoscenza del prodotto grazie alla stessa singenta perché mi hanno proposto di partecipare a un corso di formazione in cui ho avuto modo di conoscere appieno i dettagli sia del meccanismo d'azione sia della selettività stessa del prodotto. La caratteristica che mi ha colpito di più del prodotto è la sua buona azione e soprattutto la persistenza di azione post trattamento che permette di stare tranquilli nei periodi più critici per il controllo del tripide in particolare. Per due motivi in particolare il primo è che è un prodotto già registrato da due anni in Olanda e quindi già stato utilizzato su tantissime culture floricole. Il secondo è il particolare meccanismo d'azione perché uno limita l'impatto ambientale grazie alla sua selettività e alla sua azione per ingestione. Inoltre la persistenza di azione permette una buona durata dell'efficacia e quindi la forte efficacia del prodotto permette anche di controllare bene i virus. In alcune motivazioni si utilizziamo insetti utili sia su Dianthus barbatus usiamo fitoseidi per il controllo del ragnetto rosso sia su Aspidistra utilizziamo principalmente fitoseidi. Abbiamo fatto anche prove su Aralia per il controllo della cocciniglia con i parassitoidi tipo Analgirus e predatori come le coccinelle per la carnea. Siamo sempre più attenti alla gestione e all'utilizzo della lotta integrata perché le richieste del mercato e soprattutto dei clienti esteri sono sempre più stringenti da questo punto di vista. L'abbiamo usato un po' su tutte le specie floricole di nostro interesse ovviamente seguendo le indicazioni di etichetta non abbiamo avuto nessun problema di fitotossicità anche perché le dosi di utilizzo sono bassissime valiamo di 10 grammi per retolitro non presenta nessun problema di miscibilità di utilizzo e miscela anche con altri prodotti ad azione diversa. Non porta nessuna macchia sul apparato foggiare né tantomeno sul fiore abbiamo riscontrato problemi di diciamo di fitotossicità o di decolorazione sui colori più scuri. Abbiamo visto una buona efficacia utilizzandolo in abbinamento con il fruttosio. La formulazione in granuli è perfetta, è idrodispersibile, non ha problemi di miscibilità. Non ha nessun impatto olfattivo sull'utilizzo, è un prodotto semplice da direttorizzare e anche da gestire. ben vengono nuovi prodotti che ci riducano l'impatto ambientale e anche l'impatto per gli operatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.